molto di peggio, io parlo molto e rispondo molto concretamente senza girarci attorno. Allora, ci vuole, primo, una legge sui partiti. Allora, questo è un fatto ineludibile, noi abbiamo, da quando siamo nati, abbiamo mandato in Parlamento proposte per leggi sui partiti, adesso un primissimo pezzo, se fatto per quello che riguarda una parte del tema che è il finanziamento, sono in corso le discussioni sul Zunet, dice, ma perché non c'è, poi dico a noi, perché non c'è la legge sui partiti, ma io lo dico io perché non c'è la legge sui partiti, perché noi siamo gli unici che si chiamano partito e non abbiamo la maggioranza in Parlamento, è molto semplice. Noi siamo gli unici che hanno deciso di chiamarsi partito e l'hanno fatto non perché erano ubriati, l'hanno fatto consapevolmente. Fate il giro nella vostra testa di tutto il panorama politico italiano e ditemi se non siamo invece dentro una vicenda dove la tendenza è stata quella alla personalizzazione, quindi a un'altra chiave logica.